Dopo una pausa di quasi quattro mesi, su Prime Video è uscito il quinto episodio della seconda stagione di Invincible, per meglio dire dal 14 marzo del 2024. Io non sapevo che ad un certo punto si sarebbero interrotti facendo passare tutto questo lungo periodo, però quando ho visto che l'episodio era uscito sono andato su Prime Video con qualche giorno di ritardo e me lo sono visto. Dietro la macchina da presa troviamo Ailey Eric mentre è scritto da Ellen Leif. Nel complesso mi è piaciuto, non mi ha fatto impazzire, ne parlerò con spoiler quindi nel caso ancora lo doveste recuperare, guardatelo e poi tornate ad ascoltarmi. Quel che più mi ha convinto della puntata è tutta la parte che si rifà ai legami familiari. Per meglio farvi capire, Invincible che torna sulla terra con il suo fratellino, che parla con sua madre, che si dimostrerà anche pronta ad accudirlo, lì per lì non credevo sarebbe stato così semplice, anzi mi aspettavo che sarebbe stato molto difficile convincerla, sapendo anche l'odio che prova nei confronti di Nolan, dopo tutto quello che ha combinato. Ed invece si dimostra una madre pronta a mettere da parte quella rabbia pur di aiutare un altro bambino che poveretto è innocente, non ha chiesto lui di essere messo al mondo e sicuramente con una giusta educazione potrebbe diventare proprio come Invincible. Con ovviamente Cecile che invece lo vorrebbe prendere e portarlo in altri luoghi e invece Invincible che si impunta così come mi sono piaciute le scene fra Invincible e la sua ragazza, oppure quando Atom Eve si relaziona con Rex, lei è ancora disperata per quel che ha fatto, per il parco che aveva ricostruito, poi è crollato tutto, vi ricordate? Ecco, mi sono piaciuti questi momenti più introspettivi che poi non vanno incontro a chissà quale approfondimento, però nella loro semplicità mi hanno intrattenuto di più delle missioni a cui si sottoporranno i vari protagonisti della serie, perché Invincible stesso verrà chiamato da Cecile per partecipare a questa missione nello spazio contro una navicella marziana che sta arrivando, quindi bisogna entrare dentro e fermare questo esercito di sepidi prima che arrivino sulla terra. Senz'altro ciò che si imbastisce è soddisfacente, anzi sembra molto difficile riuscire a sconfiggere questi sepidi e vedremo nella prossima puntata come risolveranno il tutto, sempre se basterà una sola puntata per concludere questa sottotrama. Ciò che più mi convince a livello di battaglie è quella che avrà luogo un'altra volta contro i Viltrumiti, se pensiamo anche alla post-credit con Allen che si risveglia, muscolosissimo, potentissimo, e quindi lì si rende conto che anche Tadeus è un Viltrumita che si è ribellato al suo regno e quindi insieme con l'ausilio di Invincible vorrebbero sconfiggere l'esercito Viltrumita che ha rapito Nolan, che lo sta tenendo prigioniero, ecco per me quel che si prospetta potrebbe essere interessante. Bisogna vedere come lo svilupperanno, se tutto si risolverà qua, se invece andremo avanti in altre stagioni già annunciate. Ovvio, il personaggio per me più interessante togliendo Invincible è suo padre Nolan, così come Atom Eve, la ragazza di Invincible. Quando già ci si sofferma sulla terra con la battaglia contro l'uomo lucertola e tutta la banda della Lega dei Rettili, lì mi convince un po' meno, ma perché sono personaggi che non mi dicono un granché. Poi a livello di animazione, di azione, sono carine le scene in cui anche sembrano aver catturato Duplicate e lei che si duplica dentro questo mostro facendolo esplodere, oppure il personaggio di Rex che poi combatte, perde una mano. Però io preferisco quando Invincible si sofferma sui legami familiari, su queste cose un pochino più introspettive e sono curioso di vedere, non conoscendo i fumetti, quindi vi prego di non dirmelo, come si alterneranno queste situazioni con un Nolan che si è pentito, comunque dimostra di essersi pentito per ciò che ha fatto, prima o poi potrebbe esserci un nuovo incontro con sua moglie. Non dico che riuscirà lei a perdonare lui, ma... e poi adesso vediamo se Invincible andrà ad aiutare, una volta risolta questa situazione, il Viltrumita che si è ribellato ai Viltrumiti per sconfiggerli e riprendersi suo padre. Sicuramente quel che potrebbe essere molto interessante è il rapporto che si potrebbe creare fra Invincible e Cecil quando si ripaleserà Nolan, perché io sono convinto che prima o poi Nolan torni, con Cecil e tutta la sua squadra che non lo accetteranno, mentre Invincible che difenderà il padre. Per me è una situazione di questo tipo, con un Cecil che da amico diventa nemico, poi tutto si potrebbe risolvere, però me la immagino, potrebbe succedere. Mi è piaciuto anche di Donald che scopre la realtà e quindi era rimasto intatto solo il suo cervello dopo un brutto combattimento e quindi è stato inserito in un corpo robotico e lui scopre finalmente la verità. Nel complesso una puntata che ha saputo intrattenermi, dura 50 minuti quasi, togliendo i titoli di coda 45 fate compresa la post credit, molto carina, carina, non è fra le migliori, sicuramente la stiscella si alzerà quando tornerà Nolan quando poi ci si soffermerà su altri personaggi che io preferisco come quelli che vi ho detto prima, però tutto sommato Invincible il suo lavoro lo fa. Grazie per avermi seguito, ragazzi l'animazione mi piace, ve lo continuo a dire old style e noi ci vediamo la prossima settimana per la sesta puntata e vi ricordo che in totale saranno 8 quindi non ne mancano molte. Fatemi sapere nella sezione commenti, iscrivetevi al canale e dopo esservi iscritti abbonatevi anche se lo desiderate così almeno potreste ricevere in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana e attiva anche la funzione super grazie che vi permetterà di mettere in evidenza il vostro commento oltre a donare per sostenere il mio operato su youtube. Ciao!